Musica Laica e Zagato hanno in comune non soltanto cento anni di storia ma anche e soprattutto un approccio coerente che ha determinato degli evergreen che non sono influenzati dalle mode del momento ma che sono la sintesi di queste tendenze. Sono prodotti che mantengono ed aumentano il loro valore nel tempo e che diventano perciò dei collectibles più che dei consumables. In collaborazione con Laica's engineers abbiamo avuto ogni opportunità di minimare i volumi, di avere la minima di qualità di materiale per preparare le funzioni. La conseguenza naturale era di introduzire una rigurosa cilindrica e ripetere questa costruzione tre volte. Un altro aspecto era di zoom in, in quanto riguarda i dettagli dei partiti, i fissi di varie parti e anche considerare l'ergonomica del prodotto. Andrea Zagato e io, abbiamo insieme a un evento, che è Schloss Benzberg. Laica camera ha aiutato a installare in 2009. Quindi abbiamo clicchato e abbiamo deciso di fare qualcosa insieme perché abbiamo amato grandi design, classiche cariche, grandi cariche. Laica e Zagato hanno cercato di creare un prodotto che dura nel tempo, cercare di distaccarsi dal momento, tenendo presente però gli stili passati e i vari approcci di design. Questo vuol dire creare un instant classic, un oggetto da collezione.